Un'altra truffa mediatica come Bagnoli sono fondi della Regione. Così il Presidente De Luca ha commentato il via libera del Comitato Interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile all'assegnazione alla Campania di 388 milioni. Una notizia è arrivata quasi al termine della riunione del Lanci che ha portato oltre 160 sindaci nell'auditorium della Regione Campania per ascoltare l'informativa del numero 1 di Palazzo Santa Lucia sul blocco dei fondi di sviluppo e coesione, tema sul quale da oltre un anno si consumano tensioni con il Governo. Grande assente della giornata il primo cittadino di Napoli Gaetano Manfredi che ha motivato la decisione parlando di impegni pregressi anche se noto che i rapporti con il Governatore siano ai minimi storici. Durante il suo intervento De Luca si è appellato alla più alta carica dello Stato Sergio Mattarella ed ha invitato i sindaci presenti alla mobilitazione in vista dell'arrivo della Premier Meloni in città per la firma dell'accordo su Bagnoli. Due miliardi fondi sottratti alla Campania secondo il Governatore. Abbiamo mandato a Roma l'11 ottobre il piano di coesione, ci hanno fatto perdere un anno di tempo. Hanno sottratto alla Regione Campania quasi due miliardi di euro per fare operazioni finte tipo la truffa di Bagnoli costringendoci ad eliminare progetti cantierabili domani mattina. Al fianco di De Luca il Presidente dell'Anci Campania e Sindaco di Caserta Carlo Marino. Ci sono 180 comuni in Campania sui 550 che rischiano il dissesto finanziario e 280 che non riescono a chiudere la vecchia programmazione e soprattutto siamo a luglio 2024 e la programmazione 21-27 ancora non inizia. Non arrivano i fondi, non c'è la firma dell'accordo di coesione, non possiamo iniziare a progettare, a programmare. Già sappiamo che avremo ritardi nel 2027 per la realizzazione delle prossime e future opere. È strategico per i 550 comuni della Campania avere chiarezza.